buongiorno come si calcola il limite per x che tende a meno 1 di x alla seconda meno x fratto 2 fratto 2 meno 3 x sostituiamo semplicemente meno 1 alla x otteniamo meno 1 alla seconda quindi 1 meno x quindi meno meno 1 più 1 fratto 2 meno 3 per x quindi meno 3 per meno 1 quindi meno per meno più 3 uguale a 2 fratto 5 quindi il limite cercato è 2 quinti